Nipotini belli, se vi ricordate bene in un video precedente c'erano i nostri Beabaldi, Garibaldi e Bealuzzi che aspettavano qualcuno dell'evento, gli organizzatori dell'evento in questione che li andassero a prendere loro erano rimasti a piedi, erano affranti, erano rimasti molto male ma invece questo è il video ufficiale dell'evento, a quanto pare è andato molto bene come sempre è andato spettacolo, allora tutti e due, i Beabaldi, sono due ballerini provetti non so chi è meglio, nel senso che anche Giuseppe è molto spigliato vabbè Beatrice è un'attrice, quindi è anche una che sa ballare bene, l'abbiamo già vista anche con Stefano Miele però la coppia ha intrattenuto tutti quanti durante tutta la serata sono anche molto alla mano con i fan, si sono bevuti, mangiati, abbracciati e quant'altro sapete che io amo alla follia tutti e due loro, sono molto molto in gamba sia Garibaldi che Beatrice veramente gli animatori della serata, è questa la nostra bea stupenda, un bacio, ciao!